Ciao a tutti e benvenuti al mio canale YouTube. Sì, anche io ho aperto un canale YouTube, non ci avrei mai pensato, sinceramente, invece è successo. Ma c'è un motivo. Il motivo sono tre ricorrenze importanti che mi accompagneranno, mi accompagnano in questo 2023. E sarebbero i 50 anni di carriera, perché ho iniziato il mio primo film, l'ho doppiato nel 1973, Robin Hood e i compagni della foresta di Walt Disney. Quest'anno sono 25 anni che do la mia voce, che doppio, Jack Black, grandissimo attore americano, grandissimo comico che tutti conosciamo. E quest'anno ricorrono i 40 anni di Olli e Benji, mitica serie, giapponese, un anime sul calcio meraviglioso, che ha avuto un successo incredibile, e che quest'anno anche i Romics di Roma festeggerà. E quindi per chi sarà a Roma, per chi vorrà venire, ci potremo incontrare in aprile, non so adesso la data esatta, ma ci sarà un incontro dedicato per festeggiare i 40 anni di Olli e Benji. E quindi con tutte queste ricorrenze, mi è venuta un'idea. Ho voluto aprire questo canale per condividere questo bellissimo percorso, che sono i miei 50 anni di carriera, insieme anche a un amico che mi accompagna, Luca Storelli, che mi accompagna in questo viaggio, perché senza di lui non avrei potuto farlo, e quindi lo ringrazio. E che cosa faremo? In questo canale YouTube noi faremo una cernita di tutte le lavorazioni che io ho fatto in questi 50 anni, che possono essere doppiaggio, cinema, televisione, radio, teatro, ho fatto tantissime cose. Faremo una cernita dei lavori più rappresentativi e creeremo dei video, dei video che dureranno qualche minuto, dove parleremo appunto del progetto, per esempio del primo film, Robin Hood, faremo un video e vedremo qualche piccola scena, qualche piccolo frame, oppure diremi, che doppiai nel 1978, stessa cosa, faremo un piccolo video, parleremo magari con qualcuno che ha lavorato, che ha collaborato in quel periodo alla realizzazione di quel lavoro. Condivideremo, questa era la parola che ci piace di più, condividere. Visto che oggi la tecnologia ci dà questa opportunità di condivisione, abbiamo pensato, senza scopo di lucro, perché noi non guadagneremo nulla da questo, ha soltanto veramente un valore storico, di condivisione, di quella che è stata la mia carriera, condivisa con tutte le persone che mi stimano, che mi seguono, e anche per lasciare qualche cosa, perché è bello dopo tutti questi anni, avendo avuto una carriera così generosa, poter condividerla con tutti voi in un percorso temporale. Quindi questo sì, questo cercheremo di farlo. Cercheremo di seguire con i video un percorso temporale, quindi partendo dal 1973 e arrivando ai giorni nostri. Sicuramente sarà qualche cosa di molto divertente, di molto carino. Ho già chiamato qualche collega che ha partecipato con me a qualche lavoro, e quindi in alcuni video ci saranno anche degli amici che condivideranno con me questo percorso e insieme ci divertiremo a raccontare aneddoti, a vedere piccoli spezzoni del lavoro fatto insieme, a raccontare qualche cosa di quel periodo, che partendo dal 1973, diciamo, è già molto lontano. E quindi sensazioni, emozioni, ognuno di noi che è cresciuto, chi ha fatto una cosa, chi ne ha fatta un'altra. Condivisione, divertimento e amicizia. Questa è la cosa più importante. Quindi per il momento vi ringrazio per seguirmi, per vedere anche questo video, e rimanete in attesa perché io sono sicuro che verrà qualcosa di bello, verrà fuori qualcosa di bello e ci divertiremo molto. Grazie, a presto, ciao!